Un trasferimento al lavoro, una gita fuori porta oppure un lungo viaggio, le moto e gli scooter consentono qualsiasi tipo di mobilità in assoluta libertà e spesso vengono preferiti alle vetture. Pare banale da dire al giorno d'oggi ma bisogna scegliere per essere in assoluta sicurezza o un abbigliamento certificato e non parliamo soltanto di un casco omologato, è bene attrezzarsi con un giubbotto adatto, con un paraschiena e perché no anche con dei guanti omologati. E poi c'è la guida. In primis il motociclista deve avere una visione di insieme di ciò che accade sulla strada. È sbagliato tenere lo sguardo solo sulla ruota anteriore o sul tratto di strada davanti a noi. Lo sguardo deve andare in profondità e scorgere eventuali pericoli. Attiviamo anche la nostra visione periferica perché questo ci aiuterà ad allargare il nostro campo di osservazione ed essere in sicurezza. Mai manovrare bruscamente. Capita a volte di dover effettuare delle frenate di emergenza e se si toccano molto violentamente i freni la caduta è molto probabile. Freni e accelerazione devono essere utilizzati a seconda delle esigenze in modo molto cauto. Mai dare troppe cose per scontate. Meglio considerarsi invisibili quando si è alla guida di una due ruote perché capita troppo spesso di sentire dell'automobilista di turno che attraversa l'incrocio e magari aveva troppi pensieri per la testa per accorgersi dell'arrivo di una motocicletta. Ebbene per la sua incolumità il motociclista deve cercare di prevenire i danni maggiori perché in caso di impatto i danni più consistenti sono sempre a carico di chi viaggia sulle due ruote. Ricordiamoci sempre che la strada non è una pista e che solo in pista è giusto e consentito utilizzare la velocità a nostro piacimento.